ciao bentornato con il nostro solito appuntamento a redare con il colore oggi è la volta del verde colore della natura e del nostro abita quindi della sicurezza e della calma produce un effetto molto rilassante e per tale motivo è la scelta ideale per chi è ansioso e il colore del benessere e dell'equilibrio oltre che della speranza della gioventù e della ricchezza in cucina o in bagno è l'accopiata vincente ed è sicuramente con il legno la cosa migliore però per avere del verde in casa è sicuramente utilizzare le moltissime piante dell'interno per far respirare la tua casa insieme a te